Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono andato all'Eurospin e mi hanno dato un altro personaggio di Kung Fu Panda 4, ovvero Scigna e Vipera. Adesso, qua ci sono gli stessi personaggi, che vi ho già detto. Usciranno come ultimi Po e Tai Lung. Peccato che non c'era Maestro Shifu, che Maestro Shifu è il mio personaggio preferito. Adesso, mettiamo qua, c'è Tigre, poi Zen, gru e mantide. Ed ecco qua, la bustina, iniziamo da Ticla. Vediamo un po', ci troviamo. Vediamo, ci troviamo. Troviamo la scimmia. Ecco l'acqua. Aspetta che ti libero scimmia. Eccola qui. Aspetta. Aspetta, dai. Vai, dai, ecco scimmia, non ci riesco. Ecco, ce l'ho fatta. Ecco qua la scimmia. Iniziamola a vedere. Allora, qua c'è scimmia con vipera. C'è la vipera, è tutta verde. Qua c'è la scimmia con il bastone. Eccola qua. Vedete un po' com'è carino, com'è fatto bene. Sono fatti molto bene i dettagli. Eccoli qua. Sono veramente fatti bene. Li mettiamo insieme agli altri. Eccoli qua. Allora ragazzi, spero tanto che questo video è terminato. Spero che vi sia piaciuto. E il sabato prossimo uscirà Po, il protagonista. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao. Ciao.